Ha iniziato i suoi allenamenti la nuova San Vito Sapri. La giovane formazione di Mr. Scarpitta si sta preparando al meglio per affrontare il prossimo campionato di seconda categoria. La data d'avvio del torneo non è stata ancora ufficializzata ma quasi certamente si scenderà in campo tra oltre un mese. Intanto nel club saprese cresce il desiderio di ben figurare in campionato e di arrivare presto a raggiungere vette calcistiche importanti. Vette che la cittadina saprese riusciva a raggiungere fino a qualche anno fa. Il progetto della nuova San Vito Sapri è proprio questo, risalire la china mettendo in campo i giovani calciatori locali. La squadra si allena quattro volte a settimana al campo Italia che il comune ha messo a disposizione della società a titolo gratuito. La panchina è stata affidata a Mr. Antonio Scarpitta, ex calciatore del Sapri e dell'Alfanese. La presidenza è andata invece alla giovane architetto Rocco Pugliese. Io ho accettato la presidenza proprio per cercare di aiutare i giovani sapresi che vogliono iniziare il gioco del calcio, vogliono iniziare una passione che è importante per Sapri e per tutti i ragazzi. Tutti i ragazzi di Sapri, fatte eccezione di qualcuno, quindi un'impronta precisa per questo futuro calcista. Sì, era importante infatti partire dai giovani sapresi, importante partire dal paese, insomma dai cittadini.